C'era una volta dunque la Terra appena nata. E che giorno era? Erano circa 5 miliardi di anni fa. È infatti intorno a quella data, 5 miliardi di anni fa, che gli studiosi ritengono possa essere nata la Terra. Spostiamoci da 5 miliardi, 5 milioni. 5 milioni di anni fa invece comparvero sulla Terra i primi ominidi. Ominidi è una parola che somiglia a uomo. E infatti anche gli ominidi somigliavano, avevano pervenza di essere umani, ma ancora non erano esseri umani. Per arrivare ai primi nostri progenitori bisogna fare un altro salto e fare riferimento a 200 mila anni or sono. A quel punto compare sulla Terra l'homo sapiens. 8 mila anni fa poi nasce l'agricoltura, insieme all'agricoltura nasce l'allevamento e 3 mila anni fa è attestata la nascita della scrittura. Come facciamo a studiare questi tempi così antichi se nella preistoria e per la preistoria non abbiamo documenti scritti? Si fa attraverso lo studio dei fossili. Che cosa sono questi fossili? Sono dei resti di organismi vegetali che rimangono inclusi nella roccia o nel ghiaccio, rimangono dentro, no? Come nelle ambre che contengono magari qualche insetto. Ecco, da quei fossili si studiano le forme di vita antiche. Si studia la vita nell'antichità. L'albero genealogico del genere umano dunque comprende l'Australopiteco che attestiamo 4 milioni di anni fa. Poi a salire l'homo habilis, l'homo erectus, l'homo di Neandertal che ha nel DNA dei tratti che sono ancora nostri nel 2024. E poi finalmente 200 mila anni fa l'homo sapiens dal quale noi deriviamo. Neandertal, se vi incuriosisce, è una località nei pressi di Dusseldorf dove intorno alla seconda metà dell'Ottocento, quindi ormai si tratta di centinaia di anni passati, è stato ritrovato questo reperto, un essere umano, dal quale sono riusciti a ricavare appunto degli elementi di DNA che presentiamo anche noi uomini di oggi. Consideriamo il processo evolutivo. Quali sono le caratteristiche che hanno reso possibile un progredire, uno sviluppo? Innanzitutto la prima rivoluzione da cui derivarono conseguentemente tutti gli altri adattamenti fu la conquista del bipedismo, cioè l'uomo passò dal camminare carponi al camminare sui due piedi, assunse la postura eretta. Questa posizione su due piedi garantiva un movimento più libero, più veloce e gli arti anteriori, le mani, potevano svolgere altre funzioni rispetto a quella di reggersi a terra. Una successiva evoluzione, la prima è stata quella del bipedismo, è stata la conquista del pollice opponibile che ha permesso a questi ominidi di disporre di mani preensili, cioè capaci di afferrare gli oggetti. La terza rivoluzione fu quella che riguarda l'aumento della massa del cervello. Grazie all'aumento della massa del peso del cervello, i nostri antenati divennero più intelligenti, impararono a muoversi e a operare con sempre maggiore precisione ed efficienza. Quindi di questa lezione ricordiamo la nascita della terra intorno a 5 miliardi di anni fa, la nascita dell'uomo intorno a 5 milioni di anni fa, poi ci sono studi che attestano già gli ominidi di 7 milioni di anni fa, ma noi facciamo un parallelo, 5 miliardi, 5 milioni. Dopo di questo, 200 mila anni fa, la comparsa dell'uomo sapiens, e che cosa distingue gli ominidi dall'uomo sapiens? Per esempio, prima rivoluzione, l'assunzione della posizione eretta. Seconda rivoluzione, la conquista del pollice opponibile. Terza rivoluzione, l'aumento della massa del cervello, che ha reso possibile operare con sempre maggiore precisione ed efficienza. Quindi se io domando qual è l'età della terra? 5 miliardi di anni. Quando sono comparsi i primi ominidi sulla terra? 5 milioni di anni. Quando è apparso l'uomo sapiens? 200 mila anni fa. Quando è stata scoperta l'agricoltura? Quando è nata l'agricoltura? Quando l'allevamento? Circa 8 mila anni fa. E la scrittura? Ci sentiamo nella prossima traccia per due notizie sull'età della pietra.